Quando ragazzi mi è spuntata la notifica dell'offerta bomba di Gizdeals con Motorola Razor 50 in offerta 2 al prezzo di 1 a rate e con team 25€ per 30 mesi quindi 750€ per portarmi a casa ben 2 Razor 50 Diciamo che non me lo sono fatto ripetere due volte ed è vero non ne avevo bisogno ma ero un po' intrippato dall'idea di provarlo perché avevo provato il dispositivo della precedente generazione il Razor 2022 e mi era già piaciuto tantissimo Ho conto l'occasione per fare un regalo ai miei genitori con questi due nuovi flip di Motorola che vi racconto in questa recensione anche perché secondo me hanno tanto tanto senso anche in relazione al modello Ultra Sigla e ve li racconto E sì ragazzi questa recensione sarà più una sorta di confronto con il modello Ultra e delle riflessioni personali e non su quale dei due modelli effettivamente conviene acquistare al giorno d'oggi anche in relazione alle offerte Mi scuso un po' per la voce nasale ma come al solito in questo periodo fra i vari cambi di temperatura, aria condizionata e molto caldo fuori mi sono letteralmente massacrato Se dovessimo parlare puramente del fattore estetico e costruttivo il Motorola Razor 50 così come il modello Ultra è una vera chicca qualcosa che vi lascia a bocca aperta sin dall'apertura della scatola che emana una fragranza eccezionale E di cui francamente spero Motorola cominci a commercializzare una fragranza o de toilette magari perché è davvero davvero molto bella Scherzi a parte il Razor 50 esternamente si differenzia dal fratello maggiore principalmente per lo schermo esterno più piccolo 3,6 pollici contro i 4 del modello Ultra Le dimensioni però rimangono le medesime con la differenza vistosa direi di un piccolo pezzo di scocca in più sopra lo schermo Superficie che invece sul modello Ultra era occupata interamente dal display Fatta eccezione di questo dettaglio peso, dimensioni, form factor e tutto il resto sono indistinguibili dal modello Ultra Il peso è di 188 grammi e da aperto lo smartphone è lungo 171 mm Ovviamente poi si può anche chiudere ed è qui che questa tipologia di smartphone si fa apprezzare particolarmente Con i suoi soli 90 mm da chiuso è davvero piacevole metterlo in tasca e lo è anche per lo spessore di 7.1 mm da aperto che raddoppia quando lo si chiude Ve lo dico ragazzi quando lo chiudete è davvero impercettibile da tenere in tasca Parola anche di mio padre che fa un lavoro tutt'altro che di ufficio e per tanti anni ha rifiutato smartphone grandi Proprio perché aveva difficoltà a tenere in tasca magari sai salendo su una scala o su un muletto o qualcosa del genere Insomma era sempre molto scomodo averne uno in tasca ma da quando ha iniziato ad utilizzare il Razor 2022 delle precedenti generazioni Diciamo che ha cambiato totalmente idea sugli smartphone di queste dimensioni I bordi laterali sono realizzati interamente in alluminio con finitura opaca e non lucida come il modello Ultra Ad essere sincero non sono stato sfortunato come Dario che ha rovinato il frame del suo Razor 50 Ultra dopo pochi giorni di utilizzo Ma è anche vero che questa finitura opaca scelta su questa variante pur apparendo meno premium mi è sembrata decisamente più resistente a graffi e usura La parte inferiore del dispositivo invece è quasi setosa al tatto piacevole da toccare profumata come tutto il resto del dispositivo Ma soprattutto molto comoda quando si impugna lo smartphone che da aperto certamente non è tra gli smartphone più comodi da utilizzare Il suo form factor stretto e lungo infatti non è fra i miei preferiti ma di fatto il prezzo da pagare nei dispositivi di questa categoria Almeno per come sono stati studiati fino adesso Non manca anche su questo modello più economico per così dire la certificazione IPX8 contro acqua e polvere Che alza la sticella rispetto alla generazione precedente di Motorola che ne era sprovvista Il sensore biometrico invece è integrato nella parte destra del device ed è comodissimo da utilizzare sia con smartphone chiuso che aperto Anche qui inoltre l'azienda in confezione è integrato come sul modello Ultra la fighissima cover Che grazie allo strap dedicato permette di utilizzare lo smartphone quasi a tracolla Una soluzione molto particolare e in voga con le tendenze attuali di mercato alle quali Motorola è sempre molto attenta Sul front display ragazzi naturalmente Motorola Razor 50 si colloca in una fascia di mercato molto molto interessante Perché sostanzialmente ci sono pochissime differenze rispetto alla variante Ultra Si tratta naturalmente dello stesso display internamente con un pannello AMOLED LTPO da 6,9 pollici 10 bit di profondità colore e compatibilità con HDR10 Plus Refresh rate invece qui si ferma a 120 Hz contro i 165 del modello Ultra Tuttavia però la novità vera è rappresentata dallo schermo esterno come vi anticipavo Il pannello da 3,6 pollici e un AMOLED da un milione di colori Refresh rate fino a 90 Hz, compatibilità con HDR10 Plus e luminosità massima fino a 1700 nits Eh sì ragazzi non vi nasconderò che questa è la principale differenza Quella che più salta all'occhio rispetto al modello Ultra Che quando lo vedete insomma anche più da vicino fa un effetto decisamente diverso Con la sua superficie esterna tutta quanta ricoperta da display Senza perderci in chiacchiere inutili vi dico chiaramente che questi due schermi sono davvero brillanti E dei colori eccezionali per di più Motorola con i suoi sfondi in dotazione è stata furbissima Fornendo un set con dei colori molto belli e capace di risaltare al massimo il potenziale dei due display Dunque se per voi uno schermo esterno lievemente più piccolo non rappresenta un problema Questo Razor 50 con il suo rapporto qualità prezzo decisamente bilanciato Può anche essere più interessante rispetto al fratello maggiore che non dimentichiamoci Possiede un pannello da 4 pollici a 165 Hz non 90 e fino a 2400 nits di picco Tanto per essere completi E voi ragazzi che le differenze si fermassero soltanto al display? Naturalmente no perché la scheda tecnica è anche una di quelle cose che differisce rispetto al modello Ultra Perché qui è decisamente sottodimensionata per così dire Qui infatti Motorola non si è affidata a Qualcomm come il modello Ultra ma bensì a Mediatek Che ha la sua nuova piattaforma 4nm il Dimensity 7300X 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di storage interno non espandibili in alcun modo A tal proposito pessima la scelta delle tipologie di memorie E così come la generazione precedente anche questo Razor 50 utilizza memorie di tipo UFS 2.2 Decisamente più lente rispetto alle 4.0 integrate sul modello Ultra Con il quale ci sono un bel po' di differenze a livello numerico ma anche a livello prestazionale E ragazzi non vi nego una cosa Questa è stata la prima volta in assoluto che mi sono trovato fra le mani un dispositivo di Motorola Che non mi ha restituito quella classica fluidità che ci si aspetta da uno smartphone di Motorola O che quantomeno io mi aspetto di trovare da uno smartphone Motorola perché mi ha sempre abituato in questo modo Questo Razor 50 vuoi perché magari ho dei dubbi sulla rom che è installata a bordo Che magari è marchiata team e quindi è appesantita in qualche modo Non è il software originale di Motorola ma non ho voluto smanettarci con flash di rom eccetera Per non perdere la garanzia visto che insomma l'ho acquistato di tasca mia Ma non ho trovato quella fluidità canonica di Motorola e dei suoi smartphone Certo le prestazioni ragazzi sono comunque buone con tutte le varie app Ma ad esempio anche nei giochi non è impeccabile Non mancano degli sporadici cali di frame durante l'esecuzione di Call of Duty ad esempio Così come può capitare che le temperature salgano un pochettino con un utilizzo più intenso Ma in quel caso le temperature sono velocissime a rientrare nella norma e a non rendere mai preoccupante la situazione Sul fronte multimediale nulla da dire I due speaker stereo funzionano bene hanno un'equalizzazione piuttosto valida ed un volume superiore alla norma Lato connettività infine la principale differenza con il modello Ultra La segna l'assenza del Wi-Fi 7 che qui si ferma alla generazione 6 Per il resto lui è compatibile con Bluetooth 5.4 All'NFC che supporta anche una sim fisica oltre che una virtuale in 5G naturalmente E come ragazzi spesso accade sui dispositivi di Motorola Anche questo Razor 50 si distingue per un software ineccepibile Tralasciate quelle appunto osservazioni che ho fatto sulla ROM in mio possesso Che probabilmente è stata ritoccata da Tim Non a caso ci sono tutte quante le loro app preinstallate a bordo Tralasciando questo dettaglio ragazzi Qui ci troviamo ovviamente di fronte ad Android in versione 14 Con la solita UI di Motorola Che abbiamo più volte approfondito nelle recensioni dell'ultimo periodo In più non manca anche il supporto alle funzioni AI con Google Gemini La cosa bella però è che come il fratello maggiore Anche qui nonostante lo schermo esterno più piccolo È possibile utilizzare la maggior parte delle applicazioni tradizionali Anche sullo schermo esterno Tutte cose non fattibili con i modelli della precedente generazione Beh vi state chiedendo il beneficio qual è Senza dubbio eseguire operazioni lampo Come rispondere alle chiamate Ad un messaggio Whatsapp Consultare il calendario Fare una breve videochiamata Sono decisamente più comode con lo smartphone chiuso per chiunque Naturalmente ragazzi anche qui non manca il supporto alle classiche funzionalità Smart Connect ready for di Motorola E in più in quanto ad aggiornamenti Motorola ha garantito fino a 3 major update di Android E fino a 4 anni di patch di sicurezza Così come il fratello maggiore Parlando invece di formazione fotografica schierata in campo Devo dire che probabilmente la scelta più azzecata È riversare su questo modello Più economico per così dire Perché nel modello Ultra Inspiegabilmente Motorola ha inserito una lente principale Affiancata da una lente macro E niente di più Qui invece la formazione fotografica Vede protagonisti una lente primaria da 50 megapixel Principale per l'appunto Seguita da una lente ultra wide Da 13 megapixel Con apertura f2.2 E field of view a 120 gradi Scelta decisamente più azzeccata Per le esigenze dei consumatori moderni Che si scatti in buona condizione di luminosità O in modalità notturna Le immagini prodotte dal sensore principale Sono di ottima qualità La gestione della gamma dinamica è eccellente Il bilanciamento di saturazione e tonalità Risulta molto molto naturale Anche la messa a fuoco dual PD è efficace Sebbene vi siano margini di miglioramento Il software di Motorola poi offre delle ottimizzazioni automatiche Post scatto che migliorano decisamente i risultati finali Sia di giorno che di notte Ma di base li ho trovato sempre piuttosto buoni Ed in linea con le mie aspettative Certo non sono le migliori fotografie Che si potrebbero ottenere da uno smartphone a questo prezzo Ma ricordiamoci che stiamo parlando di un pieghevole Che si fa voler bene Principalmente per altre caratteristiche Solo in secondo luogo per le sue capacità fotografiche La lente ultra wide invece per forza di cose Cattura un po' meno dettagli E le foto appaiono più rumorose E meno definite rispetto alla lente primaria Ad ogni modo di giorno la qualità è buona Senza nulla da dire Di sera invece il rumore video è più evidente E se non doveste avere delle buone luci a supporto Difficilmente riuscireste a portare a casa dei buoni risultati Bene anche la fotocamera frontale da 32 megapixel Seppure ad essere sincero Io abbia utilizzato quasi costantemente La fotocamera esterna a smartphone chiuso Per scattare i selfie Eh sì ragazzi è vero Il compromesso a cui bisogna scendere Per scattare delle fotografie Con la camera posteriore Quindi a smartphone chiuso È il form factor a 4 terzi Anziché a 16 noni Diciamo che per dei selfie scattati al volo Che non devono essere utilizzati Su nessuna piattaforma O stampati O fare insomma qualsiasi altra cosa Si può scendere decisamente A compromesso del formato Oppur ottenendo una qualità nettamente superiore Rispetto alla camera selfie I video sono di buona qualità E possono essere registrati in 4K a 60fps Con entrambe le fotocamere Anche se quelli realizzati con la fotocamera primaria Sono decisamente migliori Grazie alla presenza della stabilizzazione ottica In termini di batteria invece ragazzi Razor 50 si colloca un po' al di sopra Del fratello maggiore Perché con i suoi 4200 mAh A disposizione ha ben 200 mAh in più del modello Ultra Tuttavia questa maggiore capacità della batteria Di fatto non si traduce in una faraonica differenza di autonomia Anche perché lui Così come il fratello maggiore Vi consente di arrivare fino a sera Senza grosse difficoltà Anche per via della buona gestione energetica del processore Che probabilmente secondo me È tarato un pochettino al minimo Perché altrimenti certi lag nell'interfaccia Davvero faccio fatica a spiegarmeli In quanto a ricarica invece i valori vanno a suo sfavore Perché rispetto al modello Ultra Lui supporta la ricarica via cavo Solo a 30W anziché 45W Ed è assente invece la ricarica inversa del modello Ultra In compenso però anche lui condivide la ricarica wireless fino a 15W Ma ragazzi veniamo al prezzo Perché Motorola chiede di listino 899€ Contro i 1199€ del modello Ultra Naturalmente poi sconti, sconticini, varie offerte Realmente il prezzo attuale di 850€ E di 1099€ per il modello Ultra Ragazzi io come vi dicevo in apertura Ho comprato due di questi smartphone Per una cifra complessiva Al termine del finanziamento di 30 mesi Insomma perché sono cliente team Alla cifra di 750€ Che in sostanza mi ha fatto fare Probabilmente l'affare del secolo In queste condizioni ragazzi Naturalmente è difficile non consigliare questo smartphone Che come vi dicevo Rimarrà in casa mia Ai miei genitori, uno per mia madre, uno per mio padre Che sì sono decisamente troppo per loro Ma a questo prezzo ragazzi Era davvero impossibile lasciarselo sfuggire Poi di fatto rispetto al modello Ultra Secondo me ha anche più senso Se trovate la giusta offerta Perché la scheda tecnica differente Si può fare la differenza Ma poi nell'uso concreto di ogni giorno Se non siete degli sbanettoni Non vi accorgerete di nessuna differenza E soprattutto la fotocamera Ultra Wide Per quanto mi riguarda è decisamente più utile Rispetto ad una lente macro per dei ritratti Che personalmente utilizzo forse una volta all'anno In chissà quale contesto Fatemi sapere ragazzi la vostra nei commenti E noi ci vediamo come al solito In un prossimo video Sempre qui su Giz Ciao 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 Ciao